Claudio, dopo una settimana bisogna ripartire, arriva Udine. Sì, dopo una settimana direi positiva perché veniamo da due vittorie. Stiamo continuando a lavorare un po' su quello che ci manca ancora per chiudere la quadra e per andare lì a Udine dopo aver perso in casa. Sappiamo che è una partita difficile, però abbiamo anche comunque il turno settimanale perciò ci stiamo preparando a tutto il rush che viene di tre partite in una settimana. Cosa ha insegnato la vittoria di domenica scorsa? Ci ha insegnato un po' il nostro trend che stiamo partendo un po' malucce i primi due quarti e poi il terzo e quarto quarto facciamo quello che dobbiamo fare e quello che sappiamo fare. Se magari questo ci desse anche a Udine sarebbe un problema perché loro sono una squadra che magari non ci fa rientrare come ha fatto San Severo e sarebbe molto più difficile. ci stiamo lavorando molti su questa competizione. Come stai tu? Ah, è benissimo dai, combattiamo.